la presentazione a ok quindi allora ok io ci dovrei essere no no partiamo malissimo ok e vabbè allora adesso io sono casino no vabbè non sono dove sei io sono proprio all'inizio no perché giocare allora col mouse e tastiera un po difficile per me io sono abituato a giocare con il pad a questo computer ma mi ha dato ogni volta la situazione va io c'ho il pari invece non ce la faccio proprio no no io gioco principalmente gli spara tutto con la tastiera però questi mi serve per forza la levetta analogica hai scaricato il il nuovo call of duty si l'ho scaricato assolutamente bello tu giochi tanto a code vero e giocavo tanto c'è ancora una volta adesso è da tanto che non mi sono connesso però mi piacerebbe rimettermi però non ho ancora provato il nuovo bello è molto bello molto bello molto bello io penso che porterò comunque principalmente la storia in live di code perché nel competitivo cioè i ragazzi di macete che sono molto più forti e io faccio brutta figura sono caduto charles ma che rapporto hai tu con gli e sports tu pensi che i videogiochi siano un vero sport come come dicono in tanti ma sport sport fisicamente non c'è no però sport mentalmente secondo me è un sport mentale sì sì è un training e un training mentale giusto giusto ci sta non l'avevo mai vista da questo punto di vista sì sì no mentalmente è una roba ai 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 caduto ancora una volta no non farti squalificare ma no vai che ce la fai tu stai vedendo me in questo momento è già finito tu hai già finito no ma così non vale no che sono molto impacciato con le tastiere mouse lo sto vedendo adesso devo chiedere ai ragazzi se non è che hanno un controller per caso buttato qua e là per la in giro per la casa tu l'hai visto quando sei venuto a casa se c'era un controller allora io non ho visto il controllo veramente ho visto il segretario che ho provato sì bello sì io ce l'ho poi dietro dovresti provare non so neanche come devi saltare facendo ma la tastiera è la barra spaziatrice ma non è tanto quanto quelle proprio la visuale con il mouse che è mercoledì non ce la faccio mi sa che a me ricorda mi ricorda un programma che poi vedevo su sky e take she's castle si era take she's castle si era una roba del genere non so se tu l'hai mai visto un programma italiano e no era un programma asiatico dove tutti avevano queste sfide che dovevano superare i giochi così e questo gioco e questo giochino mi ricorda un po più o meno quelle quella non l'ho mai visto non l'ho mai visto te lo linkerò fa troppo ridere takeshi vediamo su cosa si mi sono qualificato va bene dai ottimo perché io posso commentare un attimo il tuo va bene fai il commentatore faccio il commentatore ci provo e non è nel mio però dai non era nel mio neanche fare il giudice adesso comunque non c'è qualcuno che ti può trovare un un controller ho chiesto adesso vediamo un po se arriva va bene va bene allora adesso questo è che ho fatto solo 23 giochi adesso non so cosa devo fare qua mamma mia allora il segreto è sempre sopravvivere avere il giusto timing e la pazienza e in più esatto bravo bravo ecco qua sei portati questa mezz'oretta di training prima è stata sì sì ma aiutato ma aiutato vuole che velocità che velocità ci siamo incredibile super tutti e niente resiste resiste ops poi puoi continuare puoi continuare da qua giù ci siamo ci siamo ce l'ho fatti cosa questa salita ma ci siamo ci siamo assolutamente dai sei tre i primi 31 occhio alle palle nooo non dirmi che ho perso no no non è perso salta grandissimo con la spanciata vedi la spanciata non so come farla con la tastiera chat e datemi una mano da questo punto di doppia doppio spazio no ho perso va bene va bene dai possiamo 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 ritrovare così ripartiamo insieme a tasto destro del mouse pensavo nel cassetto c'è un controller mi hanno scammato ragazzi hanno scammato mi hanno indicato un cassettino e pensavo la speranza detto wow adesso apre c'è no non c'è va bene va bene dai io c'è se mi devi scusare se sono un po scarso ma se vuoi ci provo anche io lascio il lascio ci sono giochi e giochi come vuoi come vuoi tu non voglio complicarti la vita è ci provo ci provo ti ho visto molto a tuo agio con il padre quindi non ti vorrei non far qualificare per colpa mia aspetta aspetta devo devo andare via io di questo assine se in effetti sì perché siamo spettatori poi allora allora è uscito dal pronti no mi sa che se non ti vedo più in lobby ma ecco ti adesso ti vedo anche perfetto ma sono carine sul nuovo collino hanno fatto anche il c'è il battle royale league dove che arrivi a 100 e o non lo so a quanti però che devi essere l'ultimo sopravvivente sì c'è sempre warzone lo puoi collegare comunque tranquillamente eh sì sì è molto bello tu l'hai provato quello vero sì ma la mappa è cambiata o è sempre la stessa no la mappa l'hanno la continuano ad aggiornare però penso che sia sempre la stessa io non ho giocato tanto a code warzone però magari la mia chat me lo può dire questa cosa qua ciao non ti è piaciuto tanto è complicato un po è sì 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 infatti io che non c'ho tanta pazienza o sono bravo subito ha capito ho capito sei caduto di nuovo sì 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 io stranamente ce la sto facendo mi serviva anche a me un piccolo riscaldamento vabbè basta ma è troppo complicato per me qua non mi tirate giù non fate i cattivi giù no dai 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 che sto tornando no vabbè incredibile survivor c'è una pressione io c'ho più pressione nei videogiochi che quando vado a fare la ma davvero ci sono alcuni videogiochi che comunque a me mettono sotto pressione altissima a livelli estremi no incredibile mi sa che lì la vedo difficile no tutti sei qualificato no no assolutamente no per adesso forse ce la faccio forse ce la faccio io provo a tirarne uno giù e l'ho tirato giù no lascia in pace ok ce la faccio ce la faccio no 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 ok forse ce la faccio sì incredibile ci sei credibile è più o meno più o meno forse forse devo calcolare il giusto timing ma cosa stai facendo tu no no vai 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 che ci crederci ce la facciamo ce la facciamo dove sei tu dove sei sono qualificato tt noti guardo credibile incredibile sopravvive non so quale scegliere tra destra e sinistra devi fare una scelta lì mi sa che sarà difficile la qualifica vero ce la puoi fare ce la puoi fare mancano quanti posti 76 no molto meno 5 ok no e niente no se non fai errori ce la puoi ancora fare sai perché non mi sembrano molto capaci quelli che sono ancora in gioco invece invece mi sa che non sono capace neanche io no guarda guarda ce la fai ce la fai ce la fai tranquillo vai tranquillo tranquillo no invece mi sono proprio io va bene va bene c'è un tempo minimo aspetta però forse c'era un tempo minimo perché si potevano qualificare 43 probabilmente si ce la fai ce la fai va bene va bene dai proviamo il commento di nuovo assolutamente io per la felicità del fonico faccio un trick che mi sposto guys manuelito is is out però c'è giù ronorio in the way the base way space way possible cosa devo fare io allora qua sei con la squadra rossa e devi andare a prendere le uova nell'altra e nell'altro cestello anno che è questo non sa che devi portare le palle e le palle rosse nella tua area esatto anche tutte le palle secondo me a forse sì ma siamo dei grandi vedi questo è più divertente no poi già lì cosa stanno facendo dai cosa facciamo ragazzi perché non c'è nessuno che mi aiuta ma è incredibile tutta la squadra che ti ha mollato praticamente mai mai a disturbare i blu vai a disturbare i blu che sono quelli con più palle in questo momento poi chance ma no incredibile oi blu proprio all'arremaggio guardate quanti sono siamo in difficoltà ragazzi siamo in difficoltà 111 no dai dai intanto avete ancora 25 secondi bravissimo bravissimo super no no siamo a zero proprio zero ce li hanno tutti i blu ce li hanno tutti i blu in questo momento dovete toglierli i blu sì sì levati no vabbè sì 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 vai vai mamma mia che fortuna mamma mia che fortuna incredibile incredibile ce la fa qualificato tra i primi 25 ottimo e fa anche questa sì sì beh un po di fortuna l'ho avuta è dai che secondo me ce la facciamo a qualificarci proprio primi vediamo se più mai più mai avanti e più sale l'ansia in questo gioco io l'ho mollato proprio per questo motivo vediamo se no e l'ansia notti insonni allora questo che cos'è questo che cos'è sai che cos'è questo manuelito credo di sapere non l'ho visto questo forse questo non c'ho mai giocato ah forse li devi tirare giù li devi tirare giù questo bellissimo momento li devi tirare giù praticamente vai bellissimo momento come fa il commentatore però sì no però è un bellissimo momento anche per te perché vedo che li stai schivando tutti in questo momento li stai evitando e lui si fa trovare impassibile nascosto nessuno lo nota oddio bello 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 questo è tipo il ballo del cia cia tutti devono fare una coreografia in movimento vabbè vabbè per adesso mi sto trovando bene guarda non stare molto al bordo perché qualche d'uno può fare il cattivo e tirarti giù capito approfittare della tua ah possono anche tirare eh sì 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 vedi ecco fra un po iniziano a diventare cattivi quando ma eccoli qua grandissimo grandissimo sopravvive sul bordo mamma mia che ansia questo gioco vabbè 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 tutto sotto controllo per adesso tutto sotto controllo e poi che quando quando spingono sono dei problemi ai 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 lì si facciamo male si male male valerio che è un vip nella mia chat dice ma ciarsi si è allenato tantissimo e poi comunque no no te lo giuro io ci ho giocato 20 minuti fa questa è una dote no peccato 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 questa è una dote comunque riesce ad assimilare subito le tecniche di un gioco Vabbè, l'ultima volta che ho giocato non è che il chat diceva quello Perché ho fatto il coso della memoria Mamma mia, mamma mia, non ho capito niente Il gioco della memoria? Sì Quello delle carte che devi fare tipo memory Esatto Non c'ho mai giocato, ma c'è un gioco online? Eh sì Allora, noi dobbiamo uscire da questo adesso Sì, sì, dobbiamo uscire Vabbè, vabbè C'è ancora l'attenzione del Gran Premio della Turchia Dunque, a ogni momento il controller finisce nello schermo No, ma come? No, no, non sono così Riesco a ritenermi un po' di più Allora, come uscire di questo però? Ok